oee bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi un sacco di novità per il futuro di fortnite vedremo le nuove sfide della skin maya vedremo le skin oro alcune cose modificate anche nei file di gioco prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che mi supportano con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per utilizzarlo nello shop mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sul mio video delle 13 a 30 e appunto nel video di oggi ragazzi tanti argomenti di cui avevamo già parlato poco fa mi sbaglio sempre con lo slide anche però alcuni leaks ragazzi sì perché si parla di missile teleguidato non voglio non voglio portarvi via altro tempo ma voglio farvi una domandina come sempre ci tengo tantissimo a leggere i vostri commenti proprio qua sotto e la domanda di oggi è molto particolare ma qual è la tua skin preferita delle due season 2 di fortnite quella nel capitolo 1 e quella nel capitolo 2 l'ultima skin preferita cavaliere nero oppure midas sono tutte e due toste ragazzi sono tutte e due tosti io ci ho pensato ci ho ripensato il cavaliere nero mi piace mi piace troppo io voto cavaliere nero non no no pertanto così non ci siamo dimmi qual è quella che ti piace a te qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande il bando alle ciance andiamo subito ragazzi a vedere e a sentire una cosa molto interessante quella che vi sto facendo vedere al mio fianco è una porzione di codice dove sono state inserite alcune frasi proprio che si potranno utilizzare in game ve ne voglio far sentire si chiamano emoji sono dei file audio ragazzi molto divertenti che sembrerebbe si potranno utilizzare in game proprio nel confronto con un avversario al posto che lanciagli un adesivo al posto che fare un ballo potrebbero esserci anche questo il problema è che nell'ultimo aggiornamento quello che hanno fatto due giorni fa da 200 mega la cartella o meglio la sottocartella che conteneva questi file audio è stata eliminata potrebbe essere reinserita nella patch 12.10 o magari persa per sempre era comunque una bella idea speriamo invece che la tengano e che la si possa utilizzare e andando avanti ragazzi eccola qua alle mie spalle la skin maya abbiamo tutti ottenuto i due potenziamenti completando le prime due sfide ed è veramente tanta tanta roba il fatto di poter utilizzare così tante scelte per comporre una skin che vi ricordo con tutte queste particolarità va a crearsi una su tre milioni di combinazioni sono veramente tantissime e la cosa interessante è che attenzione non si può mai modificare una scelta fatta questo vuol dire che se selezionate un taglio di capelli se selezionate un tipo di tatuaggi o quant'altro la scelta non è reversibile quindi qualcuno sta aspettando di sbloccare tutto per poi fare la scelta finale e comporre in un colpo solo la skin ecco qua ragazzi tutte le prossime challenge che arriveranno e che dovremo completare per poter sbloccare i nuovi pezzi dell'outfit le prime due le abbiamo già fatte la prossima ci dice ottenere una medaglia di specialista della pistola per cinque volte facendo appunto danni con la pistola in un unico match la quarta sfida ci chiederà di prendere una medaglia d'oro delle eliminazioni facendo almeno otto kill in un match anche qua suddiviso in cinque match molto facile la possiamo fare in rissa a squadre un'altra ci chiede di prendere la medaglia per lo shotgun specialist quindi lo specialista di fucile a pompa facendo 150 danni prendere la medaglia sopravvivenza rimanendo negli ultimi dieci giocatori anche qua in cinque partite prendere una medaglia di specialista della mitraglietta prendere anche la medaglia d'oro per il cercatore di forzieri quindi apprendone almeno 12 ogni partita e l'ultima ragazzi sopravvivere a 500 avversari ci accompagneranno queste sfide fino alla fine della season dove appunto potremo sbloccare completamente maia e andando avanti ragazzi un'altra notizia e un'immagine molto interessante è quella dedicata a scott trevis o trevis scottino ancora capito come si chiama questo qua ragazzi comunque la collaborazione oramai già praticamente confermata manca solo renderla ufficiale da parte di fortnite con il noto rapper sarà americano questo ragazzo qua penso che sia non so neanche di che nazionalità sia gira da qualche ora ragazzi un'immagine interessantissima che potrebbe essere semplicemente una fan art ma se fosse una fan art chi si è messo a farla è un pazzo criminale perché questa ragazzi è davvero molto molto simile a quelle che sono le skin di fortnite e potrebbe anche essere una vera skin di trevis scott magari un piccolo spoiler la fonte non è certa quindi non vi posso dire è ufficiale che sia questa però sono immagini veramente incredibili il modello e 3d è fatto davvero benissimo potrebbe essere questa potrebbe non esserlo quello che di certo è sicuro è che trevis arriverà non si sa quando ma molto presto con la nuova collaborazione con fortnite e andando avanti ragazzi ancora qualcosa da farvi sentire come vedete questa immagine che vi sto facendo vedere questa immagine sì esatto che vi sto facendo vedere è la nuova mina di prossimità un oggetto che è stato scoperto nell'ultima patch la 12.00 di fortnite insieme ad altri due oggetti qualche giorno fa vi avevo solo fatto vedere l'immagine ma ho anche i file audio e in game ragazzi sentiremo questi effetti per la mina è tanta tanta roba perché questa introdurrà un nuovo tipo di gameplay che ancora non conosciamo su fortnite ma che si è già visto e rivisto negli altri sparatutto call of duty battlefield e chi più ne ha più ne metta praticamente la mina di prossimità non è nient'altro che una claymore quindi una mina che si attiva al passaggio del nemico mi viene in mente che si possa imboscare o subito all'ingresso di una porta almeno si metteva così su battlefield dei tempi nei passaggi principali e una volta che un nemico ci passa sopra beh non sappiamo ancora quanto danno faccia ma in teoria dovrebbe rimanerci perché è one shot one kill ora io non credo che tolga 200 però ragazzi staremo ovviamente a vedere prima di salutarci molto rapidamente l'ultimo argomento di oggi un altro rumors si vocifera parecchio anche qui nelle ultime ore nei forum dedicati a fortnite su twitter su reddit che un possibile ritorno del missile teleguidato sarà la novità delle prossime giornate di fortnite il missile teleguidato lo abbiamo già visto in due occasioni nel precedente capitolo la prima volta in season 4 poi credo lo abbiano riportato per poco in season 6 7 non me lo ricordo veramente molto molto carino perché si parla di un ritorno oltre che essere già disegnato nella lobby principale hanno fatto delle modifiche al file dei codici sorgenti quindi ragazzi una nuova curiosità un ritorno speriamo non troppo massiccio perché dava un po fastidio ma insomma anche per oggi ragazzi le news sono terminate io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai canali noi siamo in live sulla piattaforma viola ciao